sua maestà è rosa davidoni in action ghiacciaio del belvedere invernale guardate che spettacolo buongiorno a tutti il davidone in action siamo qui per andare verso il ghiacciaio del belvedere bello innevato molto freddo siamo in ombra per qualche ora e get down bello 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.